Oggi la ConfCommercio Uniascon Provincia di Varese si rivolge ai candidati, alle amministrative dell'8 e 9 di giugno della provincia di Varese, chiedendo di inserire all'interno del loro programma di amministrazione comunale un'attenzione particolare per il mondo del terziario, soprattutto per le attività di prossimità, non solo per il valore economico che queste offrono e mettono a disposizione del mondo imprenditoriale della provincia di Varese, ma anche per quello che è il ruolo sociale, la presenza sui territori, soprattutto nei piccoli comuni, nei piccoli quartieri, nelle realtà dove oggi la gente ha bisogno di comunità, ha bisogno di sentirsi vicina al proprio territorio. Ecco, questo è un ruolo sociale fondamentale e in questo noi come ConfCommercio siamo al fianco delle amministrazioni, con i nostri strumenti, con i distretti del commercio, con la potenzialità anche dei nostri dati analitici. Noi siamo uno strumento che le amministrazioni comunali possono avere al proprio fianco per costruire insieme un'attenzione al mondo del terziario, che sempre di più troverà delle sfide non semplici da affrontare nei prossimi anni. Quindi massima attenzione, noi ci siamo e chiediamo all'amministrazione di essere al nostro fianco e al fianco delle imprese del nostro territorio. Grazie.